Siamo giunti alla quarta, quattro anni sul miglio, non corre Zara, aveva il numero 10, ne rimangono i 9, 2,98 Zodandaghi, 1,71 Zirakigil, quindi dovrebbe essere, almeno come Borbotte il totalizzatore, un match tra i due, arretrato Ziggurat Grif, imitato da Zirak Zigil. Via la macchina. Si lotta, i numeri alti partono alla grande, capeggiati da Zogandaghi, il 3 a tabellone, a me viene superato da Zoccolo Jet, e così l'allievo di Vincenzo Luongo ha il comando a galoppa, e Gallucci si ritrova leader, 13,3 a partire. E siamo al completamento della piegata, con l'allievo di Gallucci, ora può già graduare dopo lo strappo, completa il quarto in 29,2. In seconda posizione, Zarbon, a largo viaggio, è l'altro favorito, e c'è Zirak Zigil, che nome che hanno messo a sto cavallo. Si va dopo il 600, in 44 è un battito, e Zirak Zigil con il buon Tony Ang in sal, che si fa anche posto, e potrebbe, e parcheggia. Non usiamo il condizionale per chi ha parcheggiato. 58,8 da 1,13 e mezzo, non l'esina andatura il buon Gallucci, e mantiene il comando. I cavalli affrontano il penultimo rettilineo, il chilometro in 1,13 e 2. Ancora un po' di area di lotteria, eh, di profumo, di pista da lotteria. Si affaccia all'allievo di Tony Ang, e viene via bene, va ad impegnare il leader. 14,4, 1,27,6, tre quarti di miglio. Sembra traccheggiare Tony Ang, sembra. Cavalli al completamento della curva finale, passa, Zirak Zigil, Tony, Tony, Tony Ang. No problem, no stress, no stress, no problem. Un ottimo gioccolo, Zodan Daghi è secondo, mentre per il terzo Enrico Antonio Maisto porta a casa una bella affermazione per un terzo, con Zucco Jet. Attenzione, 1,56,3, 1,12,7 per questa bella vittoria del numero 8, Zirak Zigil. Ma ne esce bene anche quello di Gallucci e quello di Maisto. Totalizzatore che ha chiuso a 1,62. Linea allo studio. Grazie. 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 Grazie.